Siamo veramente sobri in tutti questi ambiti? O siamo come chi cerca di cogliere ogni minima opportunità e fa pieno... Questo, tornate in voi, non ha a che fare con il bere vino o birra, ma significa evitare le cattive compagnie e chi promuove idee sbagliate. Può essere che ci stiamo lasciando influenzare dal punto di vista di alcuni, forse anche all'interno della congregazione, che dicono la fine è davvero così vicina? O quello che il mondo offre è proprio così sbagliato? O forse siamo tentati di credere a tutto quello che viene detto su internet a proposito dei fratelli che ci guidano nell'organizzazione? Abbocchiamo subito? O peggio ancora, siamo noi ad andare a caccia di scoop su altri testimoni di Geova mentre navighiamo in internet? Dobbiamo ricordare che Satana è il padre della menzogna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.